Buonasera, io sono Tiziana Vitali, ho 44 anni, vivo nel quarto municipio e nella vita faccio l'architetto. Terrei a sottolineare un concetto che questa sera ho sentito ripetere già più di una volta, ma è una regola importantissima, che in questo momento mi sento anzitutto e soprattutto un cittadino e per questo io devo ringraziare questa splendida comunità del Movimento 5 Stelle che mi dà l'opportunità di smettere di essere il contribuente noioso di quelli che si lamentano e che continuano a dire che tutto non va e finalmente cominciare a prendere in mano un po' la situazione nel piccolo, nel piccolo del municipio, nel piccolo dei nostri incontri e cominciare a preparare quello che è un programma, un programma che se abbiamo fortuna e se saremo bravi riusciremo a portare avanti perché probabilmente questa volta ce la facciamo. I problemi sono tantissimi, è inutile raccontarli perché noi non siamo cittadini romani e conosciamo i problemi, forse quello che conosciamo un po' di meno sono le soluzioni. Abbiamo lavorato tanti in questi mesi per cercarle, io appunto faccio l'architetto, ho partecipato più che altro ai lavori per il tavolo urbanistica, le tematiche sono importantissime, vanno dai problemi di housing sociale a un piano regolatore devastante che sta praticamente cimentando tutta Roma e mi dicono che il minuto è passato e insomma ce la facciamo.